Lo scorso 10 febbraio i carabinieri della Compagnia di Caltanissetta, unitamente al personale della sezione Ambiente e Sanità della Procura della Repubblica Nissena, hanno eseguito nell'ambito delle indagini preliminari un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di quattro soggetti residenti a Sommatino e Delia, a carico dei quali il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla Costituzione di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti. Il provvedimento trae origine da un'ampia articolata attività investigativa iniziata nel 2021 con il coordinamento della Procura della Repubblica di Caltanissetta, che avrebbe consentito di individuare una presunta attività organizzata di raccolta e stoccaggio di un'ingente quantità di rifiuti di diverso genere in un'area di circa 3.000 m2 nel comune di Sommatino e in un deposito nel comune di Delia. In particolare gli indagati avrebbero operato al fine di trasformare siti soprandicati in vere e propri depositi non autorizzati per lo smaltimento. Gli investigatori hanno analizzato la modalità di raccolta dei rifiuti consistenti nei rifiuti urbani, rifiuti speciali, rifiuti urbani pericolosi, tra cui arredamenti elettrodomestici e autovetture destinate alla rottamazione che giornalmente gli interessati ritiravano o ricevevano da privati e aziende del territorio. Continua così l'attività repressiva dell'arma dei carabinieri verso i reati ambientali che dalle evidenze investigative risultano sempre più frequenti. Nell'ottobre del 2022 a Delia e Bonpensiere sono stati deferiti in stato di libertà due persone, titolari rispettivamente di un'azienda ortofrutticola ed un'impresa edile per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata con il conseguente sequestro di due aree rispettivamente di 1.700 m2 di superficie e 2.500 m2, mentre nel novembre del 2022 sono stati tratti in arresto 6 persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, per aver creato in un'area demaniale destinata ad ospitare la stazione ferroviaria del comune di Sommatino una discarica abusiva.